Sembra assumere contorni più chiari la vicenda sulla quale investigano gli uomini dell'arma del reparto operativo dei carabinieri di Caltanissetta, che ha visto questa mattina come protagonista un uomo di 43 anni di professione venditore ambulante che è stato raggiunto da un colpo di pistola alla gamba destra. Il fatto è avvenuto intorno alle 12.30 in via Nicemia, all'altezza di una sala scommessa. L'uomo è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia, non verso in gravi condizioni, sentito dai carabinieri, dice di non ricordare nulla. Gli inquirenti stanno continuando a sentire altre persone, pare ci siano alcuni testimoni oculari del fatto.